Quello che ho subito in questi 80 giorni da parte di tanti, da parte dello Stato, ma soprattutto da parte della Procura di Potenza è vergognoso, è vergognoso, è vergognoso, ma quello che ho subito oggi, ancora, sempre dalla Procura di Potenza è ancora più vergognoso, più vergognoso. Io sto giù con Fabrizio, uomo che ha scardinato l'Italia del vizio, tutti sempre pronti a dare il proprio giudizio in Italia è così, vogliono tutti far mai soldi come divi dei figli, ma non è tutto qui, bisogna viverci in Italia tutto ha un prezzo come D e G, ehi, fra in Italia si sclera dove l'invidia degli altri ti porta dritto in galera Tutto non è come appare, affoghiamo in questo male E la colpa non è mia di corona, le morti dopo l'indulso ne sono solo la prova Mi sono sentito ostaggio dello Stato Ehi buco, che Fabri ha ammazzato qualcuno? Tre mesi così, non se li è fatti nessuno E questa è la giustizia dello Stato, sei bello e condannato, prima di essere stato giudicato Corona non perdona Ostaggio dello Stato Poi penso cazzo fa la gente per apparire su chi, tradiscono mogli e mariti E poi siamo noi i guardoni pervertiti Tutto non è come appare, affoghiamo in questo male E la colpa non è mia di corona, le morti dopo l'indulso ne sono solo la prova Mi sono sentito ostaggio dello Stato Mi sono sentito ostaggio dello Stato Mi sono sentito ostaggio dello Stato Ostaggio dello Stato Vorresti farti anche te, un giro all'Hollywood con Fabri e con me Lui prende la Bentley, io il Cabrio Coupé Ci trovi facilmente siamo nel prive e l'invidia che ti rode quando vedi lì me Sei invidioso di noi, alle tipe piacciono i bad boy E poi chi c'è stasera? Bob Bovieri ci ha provato pure con l'uscera Tutto non è come appare, affoghiamo in questo male E la colpa non è mia di corona, le morti dopo l'indulso ne sono solo la prova Mi sono sentito ostaggio dello Stato Ma tra poco sarò libero, perché ancora non sono libero E allora potrò dire le mie verità alle persone giuste nelle sedi opportune E quel giorno saranno tazzi, tazzi, tazzi amari per tutti quanti Ringrazio tre persone Il PM di Maio, l'unica persona seria e onesta che ho incontrato in questi 80 giorni Seconda persona, mia madre per tutto quello che ha fatto in questi 80 giorni Terza persona, mio padre che mi ha protetto dall'assunto e dato la forza per resistere Adesso vado a casa da mio figlio che per 80 giorni è stato privato ingiustamente del padre Dio